ma come madre di una paziente e direi anche come paziente essa stessa. Lo stigma e i tabù che circondano questa malattia sono ancora molto forti. Credo che le cause principali siano l'ignoranza e la paura. L'ignoranza che spesso non ci permette di capire che i disturbi del comportamento alimentare sono malattie vere, non dispetti o fissazioni dei ragazzi che ne sono affetti e come tali vanno diagnosticate, curate e guarite. Nessuno si vergogna di essere diabetico, iperteso o cardiopatico e di curarsi per questo. Purtroppo ci si vergogna ancora di essere affetti da un disturbo del comportamento alimentare e di curarsi per questo. Come dicevo, lo stigma sociale legato a queste malattie è ancora molto forte. Parlavo anche di paura, perché ciò che non si conosce fa paura. E quindi i nostri ragazzi ammalati vengono isolati non solo dalla malattia stessa, che li porta a evitare qualsiasi occasione di socializzazione, prima e fra tutte le occasioni, i momenti conviviali, ma vengono isolati anche dalla paura che chi li circonda ha nei confronti delle malattie che colpiscono il corpo e la psiche. Senza capire che corpo e psiche in realtà sono sempre indivisibili in qualsiasi malattia, anche se nel caso dei disturbi del comportamento alimentare questo è particolarmente evidente. Quando mia figlia si ammalò nel 2005, o meglio, quando noi familiari capimmo che c'era un problema alimentare, perché in realtà il disturbo era già presente almeno da un paio d'anni e lei ce lo aveva accuratamente nascosto, io, medico di medicina generale, sapevo molto poco di disturbi del comportamento alimentare, anche se avevo avuto dei pazienti affetti da queste malattie. L'università, ai miei tempi, ma credo e temo anche ora, non ci preparava a sufficienza per affrontare la complessità e la multidisciplinarietà di queste malattie. Confesso che io stessa, nei primi anni della mia professione, consideravo le malattie psichiatriche un po' come malattie di serie B ed ero in buona compagnia, perché moltissimi colleghi la pensavano, o forse la pensano ancora, come me. Mi ero fatta l'idea che se i pazienti affetti da queste malattie si fossero fatti un giro per un ospedale pediatrico o per un reparto oncologico e avessero capito chi veramente stava male fisicamente, forse avrebbero potuto risolvere i loro problemi. Successivamente, l'esperienza umana e professionale acquisite in quasi 36 anni di professione mi hanno gradualmente dimostrato, senza possibilità di errore, di quanto fossi intorto. Quando fu evidente la malattia di mia figlia io pensai sono un medico, così come curo i miei pazienti posso curare anche mia figlia e così guarirà presto. Niente di più sbagliato. La rivelazione della malattia piombò intanto sulla nostra famiglia come un tornado e in particolare per me fu un colpo tale che mi ci volle quasi un anno per capire che chi era veramente malata, più malata e bisognosa di cura era mia figlia e non io. Noi familiari genitori più due figli maschi maggiori altri due figli maschi maggiori per due anni avevamo avuto gli occhi foderati di prosciutto. Non ce l'avamo accorti di nulla. In particolare io, la mamma medico di medicina generale ero stata cieca e sorda. Come era potuto accadere? Mia figlia poi ci ha successivamente raccontato che aveva cercato in tutti i modi di nascondercelo. Inoltre non era mai stata in sovrappeso cioè la sua malattia non era esordita come accade in alcuni casi con una dieta fai-da-te. Io me ne sono accorta quando sono iniziate le abbuffate. Vedevo che mangiava molto in modo strano, compulsivo, ho capito poi e non prendeva peso anzi ne perdeva perché vomitava dopo ogni pasto. Del resto, lei in quel momento cominciava a non farcela più e finalmente trovò il coraggio di confessare la sua sofferenza. Sofferenza che, con il senno di poi aveva dato segnali anche prima ma io li avevo interpretati come fisiologici disturbi dell'umore dell'età adolescenziale. Il senso di colpa che tutti i genitori provano mi ha ingabbiato per molto tempo. la nostra era la classica famiglia del mulino bianco tutti bravi perché dunque era accaduto proprio a noi. Solo quando ho capito che ripiegarmi nel mio dolore e cercare inutili spiegazioni era vano è iniziato un percorso di guarigione tortuoso, lungo difficilissimo costellato di ricoveri e di ricadute ma coronato dal successo. Il primo e fondamentale passo è stato quello di stipulare come famiglia intera un patto di alleanza terapeutica con i professionisti che avevano in cura nostra figlia affidandoci a loro e fidandoci di loro. è stato determinante capire che genitori e familiari possono essere una risorsa e non un ostacolo possono essere collaboratori nel percorso terapeutico pur essendo medico non potevo curare mia figlia ma essendo genitore la potevo circondare di tutto l'affetto di cui aveva bisogno creando in famiglia un ambiente favorevole e non ostile alla guarigione. Inoltre con un atteggiamento di umiltà confesso molto difficile per noi ma credo per tutti i genitori che si sentono sani tra virgolette e non ritengono di aver bisogno di cure ci siamo noi stessi messi in discussione e abbiamo compiuto un percorso di terapia familiare che è stato un elemento decisivo nel percorso curativo. La terapia familiare ci ha fatto capire le difficoltà relazionali che esistevano tra genitori e figli anche se all'apparenza andava tutto bene. In particolare nel ripercorrere episodi passati abbiamo capito che noi genitori interpretavamo un episodio un comportamento un avvenimento in modo analogo i figli invece interpretavano gli stessi accadimenti in modo concorde tra loro ma di forma del nostro quindi c'era veramente un problema di relazione e di diversa interpretazione dei fatti sul quale abbiamo lavorato. In realtà poi ogni caso è un caso a sé e quindi individuare le cause scatenanti la malattia ha significato solo e in quanto può essere uno strumento di guarigione invischiarsi e rimanere a piangere sulle cause stesse non ha nessun senso la figlia che abbiamo ritrovato dopo la malattia era una persona nuova diversa da quella che conoscevamo ora lei ripete spesso che se la sua malattia era tra virgolette necessaria perché cambiassero i nostri rapporti familiari in modo tale da far emergere la parte migliore e più sincera di noi dopo esserci spogliati di ogni giudizio e preconcetto bene e contenta che sia capitata io ovviamente non mi spingo a tanto ma effettivamente se prima potevamo essere la famiglia del mulino bianco agli occhi del mondo oggi invece siamo una famiglia di cinque persone che cammina nella vita in direzione a volte diverse ma che è sempre unita e legata da un grande affetto da una grande stima e da un grande rispetto e credo che aver superato insieme questa prova terribile ci abbia reso forti anche nei confronti delle altre avversità che la vita potrà riservarci ecco il ruolo delle associazioni il ruolo delle associazioni dei genitori e dei familiari è determinante nell'accettare e gestire con la minor sofferenza possibile il percorso di cure dei propri figli soprattutto per quanto riguarda il sostegno che deriva dai gruppi di auto mutuo aiuto sapere che c'è qualcuno che ha vissuto o sta ancora vivendo lo stesso problema e può aiutarti è di grande consolazione in definitiva dalla mia esperienza di mamma e al contempo medico di medicina generale ho capito con chiarezza che c'è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda la formazione dei primi intercettori della malattia siano essi professionisti quindi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta oppure non professionisti insegnanti allenatori educatori in generale ed è questo il senso del convegno odierno in cui chiediamo con forza che ci sia una maggiore preparazione dei medici e del personale sanitario nei confronti di queste patologie con corsi di formazione accreditati ECM obbligatori e promossi dagli ordini dei medici e delle aziende sanitarie auspichiamo anche corsi di formazione per insegnanti allenatori educatori che spesso sono i primi a cogliere i segnali premonitori di un disturbo alimentare a questo proposito l'associazione che rappresento con sede in Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle proprie attività formative si sta attivando proprio per organizzare un corso di formazione per volontari quindi non professionisti persone sensibili al problema o primi intercettori in conclusione vorrei però sottolineare che l'importanza indiscutibile della diagnosi precoce che consente di avere percorsi di cure più brevi con migliori risultati e con minori sofferenze per tutti non può prescindere dal fatto che ci devono essere i luoghi dove curarsi ripeto ci devono essere i luoghi dove curarsi attualmente in molte regioni d'Italia non esistono strutture di cura adeguate neppure a livello ambulatoriale ed è per questo che le associazioni aderenti a consulta noi continueranno a lavorare e abbattersi perché siano garantite in tutte le regioni cure competenti e adeguate grazie dell'attenzione grazie a lei dottoressa della sua testimonianza adesso diciamo abbiamo il contributo di Maria Carla Martinuzzi per l'associazione Perle l'associazione Perle è un'altra associazione molto importante che diciamo nel quale spicca anche l'attività di volontariato che fanno molti professionisti multidisciplinari e diciamo il suo intervento è proprio questa volta dedicato all'esperienza su l'importanza che ha la diagnosi precoce che ci aiuta qui chi ci aiuta qui Roberta abbiamo messo la pennetta però ecco grazie 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 buongiorno a tutti sono Maria Carla Martinuzzi sono vicepresidente dell'associazione deve premere vicepresidente dell'associazione Perle di Grosseto nonché nella vita comune pediatra di libera scelta o meglio mi definirei ancora pediatra di famiglia lavoro in un gruppo con altri cinque colleghi siamo un gruppo di secondo livello con una copertura assistenziale di 6.000 pazienti di età compresa tra la prima settimana di vita e attualmente fino a 16 anni questo perché c'è stato un innalzamento della proposta di età pediatrica da 14 a 16 e nello stesso tempo però per quello che mi occupo come volontariato ho anche un aumento in teoria delle percentuali di malati di disturbo del comportamento alimentare nella mia fascia di età questo nella realtà però non è diagnosticato perché i casi del nostro ambulatorio sono veramente molto molto pochi e non credo perché non siamo molto bravi noi ma penso che proprio qualche cosa non funziona e come è stato anche detto precedentemente la cosa fondamentale è la nostra mancanza di preparazione noi non siamo preparati a pensare anche solo a pensare a una malattia così importante così devastante come un disturbo del comportamento alimentare perché prima non rientra nel nostro programma di studio in medicina ma nemmeno nei corsi di aggiornamento che abbiamo fatto successivamente la regione toscana in questo caso è bravissima abbiamo degli ottimi corsi obbligatori anche di durate molto prolungate e io mi ricordo soltanto dieci anni fa che insieme alla Stella Maris se ne è stato organizzato uno dove si parlava di tutte e un po' di tutto un po' dai dca alla sfera autistica ai disturbi di iperattività di questi bambini alla fine non ne abbiamo ricavato assolutamente niente quando nel lavoro di tutti i giorni noi abbiamo in seguito al progetto della salute dell'infanzia proprio delle dell'età a rischio in cui non dobbiamo fare che sono stabilite in cui dobbiamo fare delle osservazioni che saranno al quindicesimo mese per quello che riguarda la sfera autistica ai sei anni l'udito e la vista e quindi hanno tutti un'indicazione ben precisa la regione toscana ha individuato nella fascia di età che va dai dieci anni e dal primo gennaio del 2018 e dai sei anni la presa in carico dei bambini a rischio di sindrome metabolica cioè sia bambini obesi che bambini sovrappeso questo per prevenire i danni nell'età adulta questa è la nostra casistica personale in cui si vede su 171 bilanci di salute tutti i bambini di 10 anni 58 erano sovrappeso 13 obesi tra l'altro la maggioranza soprattutto negli obesi era del sesso maschile sotto peso nessuno c'è stata richiesta nessuna notizia in questo caso per cui il nostro valore è zero il nostro apporto la stessa cosa è accaduta al pronto soccorso un anno fa abbiamo fatto un'indagine con Perle sui codici di accesso per anoressia al pronto soccorso pediatrico di Grosseto risultato due bambini purtroppo questi bambini uno aveva un mese uno ne aveva due per cui con il disturbo alimentare non c'entravano assolutamente niente erano bambini soltanto scarsamente nutriti quindi a cosa dobbiamo stare attenti dobbiamo stare attenti perché è vero che noi dobbiamo ascoltare la famiglia la famiglia è importante perché ci può mettere quelli che sono i campanellini d'allarme ma abbiamo soprattutto un uso durante questi questi momenti di incontro dei bambini rappresentati dai bilanci di salute dell'indice di massa corporea questo indice di massa corporea però come va interpretato questa è una bambina che l'anno scorso rientrava in quelli sovrappeso quindi un mio fallimento dal punto di vista clinico perché mi è stato chiesto di tenere questi bambini sotto questa fascia del normo peso questo è un grafico secondo il metodo COLL di cui si può vedere che ci interessa il grafico che riguarda l'obesità il grafico che riguarda il sovrappeso poi sotto c'è perfettamente il vuoto questa bambina perché c'è una brava pediatra potete vedere come da sovrappeso l'anno dopo nemmeno era otto mesi dopo è ritornata nella fascia della normalità se io la guardo con i percentili in realtà si può vedere che addirittura siamo riusciti mamma io e quant'altro a portarla addirittura al cinquantesimo percentile quindi messaggio completamente riuscito in realtà questa bambina mi ha perso tantissimo peso in un lasso di tempo brevissimo è cambiata notevolmente come atteggiamenti tra l'altro non è ancora mestruata io non posso aspettare che questa figliola mi faccia 33 kg per potermi allarmare mi devo senz'altro allarmare un pochino prima inoltre non solo il grafico del peso è importante ma sono importanti altre domande da fare alla famiglia perché nell'età pediatrica abbiamo altri disturbi che riguardano il comportamento alimentare dalla plica dalla disfagia al disturbo emotivo di evitamento del cibo l'alimentazione selettiva quindi queste cose vanno chieste altrimenti non è detto che il genitore ce le riferisca e sapendo quanto la rapidità della della diagnosi e soprattutto la rapidità e la possibilità anche di poter curare questi bambini nei centri doni possa portare a una a una vita una speranza di vita senz'altro senz'altro migliore ritengo nella mia pratica quotidiana ritengo di avere necessità di un bilancio di salute delle domande fatte ad hoc per sensibilizzare il genitore ad osservare qualche cosa in più ma anche il medico a ricercare qualche cosa in più che al momento difficilmente viene ricercato queste sono delle proposte da mettere in questo bilancio di salute che tra l'altro prima ho detto io mi ritengo pediatra di famiglia queste cose se c'è un disagio sociale familiare monomalattia un'analisi positiva per una malattia psichiatrica in teoria già io la dovrei lo dovrei sapere e dovrei stare particolarmente attenta posso vedere come è cambiato quel bambino quella bambina di prima che era la classica bambolotta ora io me ne accorgo che si guarda anche contro lo vetro della finestra quando io la visito è un interesse eccessivo che è insorto verso l'alimentazione o delle domande strane su delle diete che hanno letto su internet e quant'altro e pertanto alla base di tutto che cosa c'è alla base di tutto c'è soltanto la conoscenza per cui se il medico l'operatore non conosce non va a ricercare non sa è importantissimo quindi tra noi operatori avere maggiore competenze dei linguaggi condivisi e soprattutto commentare le curve di crescita nella maniera più idonea possibile senza quanto sei stato bravo hai visto quanto peso hai perso guarda in che bella fascia il percentile ti ritrovi in questo modo perché il target non è soltanto raggiungere la salute con un peso sulla bilancia non è un caso tra i miei colleghi io sono quella che ha più diagnosi di disturbo del comportamento alimentare non credo di essere più brava anzi potrei essere stata meno brava perché ho parlato meno bene con le famiglie non lo so questo potrebbe essere anche un discorso del genere io penso perché ci sto pensando quando c'ho davanti un bambino e tra l'altro con molto dispiacere a volte da quando lavoro nell'associazione mi capita di incontrare bambini che sono usciti dal nostro studio ovviamente su 6.000 bambini mi è capitato spesso di avere poi ragazzini di 16-17 anni che vengono portati o dal genitore o qualche volta hanno telefonato direttamente o hanno telefonato gli amici di questi ragazzini e mi sono accorti che uscivano proprio dal mio di studio in totale dei miei colleghi quindi lì siamo stati noi che abbiamo abbiamo fallato ed è veramente una sconfitta e questo lo devo soltanto al mio lavoro di volontariato perché ho imparato che la salute psicofisica di una persona non è soltanto il numero che io sto leggendo su quella bilancia e non sto commentando mai da qualche anno a questa parte quel numero di fronte ai miei piccoli pazienti piuttosto lo faccio dopo con i genitori vi ringrazio per l'attenzione bene grazie concludiamo questa prima parte interessantissima della mattinata con il dottor Gianluigi Luxardi il dottor Gianluigi Luxardi eccolo che non la vedevo buongiorno è il direttore del centro per gli disturbi alimentari del dipartimento di salute mentale della ASL Friuli che non la vedevo per l'attenzione Grazie.